ciao a tutti ragazzi e benvenuti nella taverna del tarfone se volete natura elfi e magia duridica beh non avete capito un cazzo ma se siete qui per un po di strategia fantasy di alto livello nozioni storiche e tanto altro a livello video ludico siete benvenuti e ricordatevi sempre forza Erani